Ufficiali pronti! Forze nemiche all'orizzonte! Iliadia! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allarme incendio. Problema risolto, signore. Generatore di lungo avviato. Sovralimentazione disattivata. Un approcciatore nemico individuato. Abbiamo avvistato un sommercimile nemico. Rilasciata cortina fumogena. Sovralimentazione disattivata. Corazzata nemica individuata. Sovralimentazione disattivata. 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 Grazie a tutti. 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 A tutte le unità, concentrare il fuoco sul bersaglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Porta aereo, nemica individuata. Corazzata di minghe individuata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Generatore di fumo avviato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Rilasciata cortina fumogena. Grazie a tutti. 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 Rilasciata cortina fumogena. La battaglia terminerà tra cinque minuti. incrociatore nemico individuato a tutte le unità richiedo fuoco di supporto generatore di fumo avviato generale 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 di fumo avviato La nostra vittoria è vicina. La nostra vittoria è vicina.